allora pronti al via 5 4 3 via grande sorpasso grande è anche l'unico che ha fatto il doppio vorrei dire ecco i due piloti di testa che si scornano e vantaggiano Enzo che pian piano ci fa sotto e sbaglia sbagliato e dai fallo qui Enzo prova il tutto per tutto a un'antica tecnica mi fata Sì, ho capito la tecnica, ho capito! Che è tanta storia? Dopo i primi due minuti, con Gissel Kulats, che fa anche il giro record in 31.372, Seguidini a 2,8 secondi, Enzo a 5,9 secondi, Massaggio a 12 secondi, Giovannoni doppiato. Lini deve aver svinchiato perché passa in terza posizione, con cui passa in secondo posto Enzo a 4,4 secondi dal leader, Ivan a 6,4 secondi, Massaggio a 21, Giovannoni doppiato. Ma perché non si crede? Recuperano sia Enzo, Chiellini, Enzo si porta a 3,9 secondi, e Lini a 5,4 secondi. Le linee negli occhi! Ah, vai! Bastarda, ma che cazzo devo fare io? Che be... Vai! Grazie, vai! Recuperano ancora, Enzo si porta a 2,1 secondi, linea a 3,1 secondi. Mi raccomanda, Massaggio ai Giovannoni, quando stanno per essere doppiati, di accostare appena appena, i tre sono in bagarre. Sopra! Sopra, mi sei venuta! No, Lini, no, Ivan, no! Mi hai infulato da sopra! Ma se... Enzo e Lini spinchiano entrambi, e tornano... Enzo a 5,5 secondi e Lini a 6,2 secondi. E Kulat se ne va! Sopra 5 minuti e 20. Sì, a lei sta a 5 minuti e 20. Ma guardala, Dio caro! No, 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 no! Ecco, ecco, attenzione, comincia a perdere i pezzi, adesso sì che ti riconosco! Era un po' che non perdevo i pezzi, pensavo che si è perso l'abitudine! Guarda, non fa più pizza! Ecco, senza lettone è ancora poco, secondo me puoi perdere anche un ammortizzatore ora che arriva la pizza! No, 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 no. mantiene comunque il vantaggio 6 e 4 lini che passa davanti a Enzo a 6 e 5 guarda che va il meglio senza, ma sai che la sbanda come una becca ma è che va bene, va meglio senza, ma è che fa un giro inizialmente a offrire, ma sì, ho fatto a fare questo, se c'è le culture, se c'è le zone, era meglio di fermare, se ne va, se ne va anche senza, se ne va, se ne va, se ne va anche senza, senza lettone, 7 secondi di staccolini, 8 secondi e 4 Enzo, mancherò 3 minuti e 40 alla fine, senza lettone super performante, è un po' indammabile, è un po' indammabile, è un po' indammabile, non lo farò addest Vicente, non lo sa, ma è molto importante, semplicemente, non lo ha mai fatto, non lo faino proprio, non lo fa un po' indammabile, è un po' indammallabile, che高i, non lo fa, 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 5 alla fine, Lini fa segnare il giro a Redmond in 30, 413, si porta 4,8 secondi dal culo, attenza è 8 secondi. Lini fa segnare un altro giro a Redmond in 30, 289, si porta 7 decimi dal culo, attenza è 6,7 secondi, no 11,8 secondi, super svinchiato, per cui se la giocano Lini e il culo, manca un minuto e mezzo. No, hai svinchiato! vedo attenzione c'è una macchina ferma linea 7 decimino il coolant manca un minuto alla fine passi in testa Alini mezzo secondo di vantaggio sul coolant mancano 40 secondi grande finale probabilmente l'ultimo giro perché mancano 10 secondi ultimo giro tutto per tutto e prende un po di distacco e svinchia svinchia sotto pressione e Alini se ne va con calma giustamente rinuncia anche a fare il doppio con la sopra la calma e taglia il traguardo in testa e vince la manche I Lini seguito dal coolant Enzo Massaggio e Giovannoni sono già fermo Massimo si sei già fermo non l'avevo